Questa è molto più di una crema. È Mineral 89 Crema Booster Idratante. Un concentrato di superattivi skin care, minerali e naturalmente acido ialuronico. In una formula essenziale. Idrata per 72 ore e rinforza la barriera cutanea. Questa è molto più di una crema. Ve lo avevo detto. Mineral 89, da Vichy. La salute passa anche dalla pelle.